Si torna a parlare del tratto B della superstrada Vigevano Malpensa, quello che connetterebbe l'arteria direttamente alla tangenziale ovest di Milano. In braccetto dell'opera era stato stralciato dal progetto già una decina d'anni fa e poi definitivamente abbandonato nel 2018. Da una parte mancavano i finanziamenti e dall'altra si temevano ulteriori difficoltà nel far digerire un'infrastruttura che nell'ovest milanese trovava e trova tuttora parecchi detrattori. Si era così andati avanti con il tratto A Vigevano al Bairate e il tratto C al Bairate Magenta, su cui sta attualmente lavorando il commissario Anas. In braccetto per arrivare sulla tangenziale milanese era finora completamente scomparso dai radar. A muovere le acque il dossier presentato negli scorsi giorni da Union Camere sulle opere considerate prioritarie per la Lombardia, con il quale viene rotto il tabù e si suggerisce di tornare a parlare del tratto B. Secondo gli esperti delle Camere di Commercio regionali, il collegamento con la tangenziale ovest di Milano risulta di rilievo per il territorio e andrebbe verificata la possibilità di un suo reinserimento nell'iter procedurale. Certo, parlare di un collegamento diretto tra una superstrada ancora da iniziare a costruire, la tangenziale ovest di Milano, sembra fantascienza, tanto più se si pensa che attualmente non ci sono nemmeno i soldi per collegare il nuovo ponte sul Ticino di Vigevano con la viabilità esistente. Costruire anche il tratto B, però, risolverebbe la contraddizione di fondo dell'opera, e cioè che la strada per Milano non porti a Milano, tra i principali argomenti di chi contesta il progetto. È degno di nota, in questo senso, il commento possibilista del Movimento 5 Stelle, tra i più ferventi oppositori della Vigevano Malpensa, di fronte all'eventualità di tornare a discutere del collegamento tra la superstrada e la tangenziale ovest. Sulla Vigevano Malpensa il Movimento 5 Stelle ha fatto un lungo lavoro di raccordo con i ministeri e abbiamo ottenuto una revisione dell'opera da parte del Ministero delle Infrastrutture che doveva portare appunto una revisione globale di tutte le tratte e il reinserimento della tratta B. Rivedendo l'opera si trovavano anche i fondi per riqualificare anche la tratta B, quindi il collegamento a Milano che riteniamo fondamentale. Quindi il Movimento 5 Stelle spera che adesso si possa andare avanti con il ragionamento sulla revisione fatta dal Ministero e che non si torni all'opera iniziale che collega Vigevano con Malpensa e non più Milano con Malpensa, che era l'opera che si prevedeva all'inizio nella legge obiettivo.